Una vita anticipazioni. Alodia diventa una signora, dopo il matrimonio con Ignacio. Nella sua nuova vita, Alodia diventerà una delle signore di Acacias. La giovane avrà una nuova posizione sociale. Si dedicherà a tutte le attività tipiche di chi può permettersi una vita agiata, avendo a sua volta una domestica che si occuperà della gestione dell'abitazione, proprio come faceva lei prima che arrivasse il giovane medico. Quello tra Alodia e Ignacio sarà davvero un matrimonio fortunato? Oppure ben presto si mostreranno le crepe dovute anche alle differenze sociali che ci sono tra loro? Cerchiamo di capire nel dettaglio cosa succederà. Dopo il salto temporale, Alodia ha finalmente sposato Ignacio. La giovane farà del suo meglio per lasciarsi alle spalle il suo passato di domestica e diventare una vera signora. Per farlo cambia completamente aspetto, rinnovando i capelli e anche il guardaroba. Tuttavia non riesce ad attirare completamente l'attenzione del suo marito, che ha un debole per le donne e cerca di sedurle. Per farla breve Ignacio si dimostrerà un vero donnaiolo. Osè si renderà subito conto dell'atteggiamento del nipote e gli consiglierà di evitare la tentazione femminile. Se continui su questa strada la tua, vita coniugale finirà da un giorno all'altro. Non sei più single, devi capire. Tuo matrimonio sta partendo con il piede sbagliato, spiega. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video iscriviti al canale. Grazie.